Beh, hai perso le chiavi? No, ci volevo presentarmi. Oh, piacere, falla entrare, dai. Dai, stamattina sono di corsa, ho già gli allievi che mi aspettano, scusate. Te l'avevo detto che era sfuggente. Non ti preoccupare. Oh, grazie, che gentile. Dai, signora, io sono qui, però, per risolvere certi suoi dubbi che, tra l'altro, stanno diventando proprio degli inibili. Dubbi? Quali inibili? Di cosa parli? A proposito di questo articolo e di questa foto. Ma, chi vi ha dato questa roba? Signora, conosce quell'uomo. Ma quale uomo? Di cosa stai parlando? Mi raccomando, fate compiti, siete qua per studiare. Quando ritorno ti voglio controllare i compiti. Grazie. 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 Cos'è questa roba? Che te l'ha data? La spezzavano ieri davanti alla scuola, quelli della banda del tango. Perché dici la banda del tango? Perché? 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 Posso entrare? Va bene, entra Allora, l'hai sviluppata la foto? Sviluppata cosa? Sì, certo E allora si riferisce a questa Ho capito, ho capito Andate di là Ci penso io Andate a fare i compiti Ci penso io Pronto? Polizia? Devo fare una denuncia Al carico di una persona Che ho riconosciuto in una foto Cara Mary Come tu sai Per qualche tempo Non potremmo vederci Visto che Per mia disgrazia Sono stato testimone Di quanto è accaduto Davanti a quei cancelli E' sospettato anche Di loschi pratici Prima o poi La verità verrà gialla Vedrai Ti prometto Se la fortuna mi assisterà Di farmi vivo Quanto prima Tuo affezionatissimo Loro Questo è tuo padre La verità Batte nel cuore Per il suo Quanto prima Qui è supporto Quanto prima Qui è spettato Quanto prima Grazie a tutti. Grazie a tutti.